Sarà proprio Dante Alighieri, nel settecentesimo anno della sua morte, ad accogliere il pubblico che dovrà recarsi in comune a Pietrasanta. Da oggi e fino alla fine delle celebrazioni per il settimo centenario di Dante Alighieri, lo straordinario busto in marmo del padre della lingua italiana sarà esposto all'ingresso del palazzo comunale. La raffigurazione scultoria del sommo poeta era gelosamente custodita nei locali dell'archivio comunale. Il Dante Dì, promosso dal Mibac per il centenario dantesco, è stato l'occasione per l'amministrazione comunale di mettere in mostra la scultura in marmo bianco. Il busto resterà esposto nel latro del municipio per le prossime settimane come link artistico di collegamento alle celebrazioni dantesche che hanno in Toscana il suo fulcro. Sulla paternità della scultura si sta dibattendo molto in assenza di documentazione certa. Il busto pare infatti essere una copia dell'opera di Vincenzo Vela risalente alla fine del Novecento e realizzata con molta probabilità dagli studenti del liceo artistico Stagio Stagi.